Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 4 aprile. Ariete, l'amore può regalarvi una giornata meravigliosa, le emozioni si susseguono a ritmo frenetico, i nuovi incontri si annunciano fortunati, toro, la luna in posizione complicata. In amore sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti o più semplicemente crescerà l'attenzione con il partner. Gemelli, la luna magnifica in acquario renderà la serata molto intensa. Sono previste novità importantissime in amore e sul lavoro sarete vincenti. Cancro, non riuscite a comunicare i vostri sentimenti, per questo sentirete venir meno un po' di entusiasmo in amore. In serata preferirete starvene da soli, leone, vivrete una giornata difficile in cui tutto vi sembrerà complicato e il vostro umore ne risentirà. La luna in serata vi farà sentire prigionieri, vergine, la luna in acquario è preziosa. Per tutto ciò che riguarda il lavoro e la vita quotidiana potete risolvere problemi che vi portate dietro da un po' di tempo. Bilancia, vi aspetto una giornata fortunata in cui sarete al centro dell'attenzione. L'amore sarà il protagonista assoluto, specie per chi desidera cambiare qualcosa. Scorpione, sul lavoro sembra non succedere nulla di significativo, per questo vivrete tutto con distacco, mostrando spesso un completo disinteresse. Sagittario, godetevi l'energia portata dalla luna in acquario, organizzando una giornata particolare. Chiamate un amico, inviate un curriculum, cercate di comunicare. Capricorno, organizzate una serata in compagnia dei vostri cari, avrete l'occasione buona per confidare i vostri problemi e magari trovare un aiuto prezioso. Acquario, la luna transita nel vostro segno in aspetto con il sole. Sarà una giornata speciale in cui potete vedere premiati i vostri sforzi e dare il via ad un progetto ambizioso. Desci, l'una in posizione difficile, mette Zizzania sul lavoro e nella coppia. Sembra impossibile dialogare con voi, avete sempre una lamentela pronta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus. Grazie a tutti.